E in questo giorno, santo e solenne, festa dell'Assunzione al Cielo di Maria e festa dei figli che, uniti alla Madre, vogliono ascendere con il cuore per vivere già ora il Regno che nella Nuova Gerusalemme è. Invoco la viva benedizione del Padre, affinché Dio Padre Onnipotente, nel nome di Maria, l'opera di Dio, la Corredentrice universale, vi conceda oggi ogni grazia spirituale e corporale e conduca la sua Chiesa alla vittoria, nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo.